Il conto salato ricadrà sui cittadini, soprattutto sulle fasce più deboli come anziani e giovani disoccupati. È il grido di allarme lanciato dall'Inca a CGL Toscana riguardo alla nuova riduzione di risorse prevista nella legge di stabilità ai danni del Fondo per il finanziamento dei patronati. Una rete capillare che in tutta Italia fornisce servizi gratuiti, ad esempio su pensioni, cassa integrazione, disoccupazione e malattie professionali. Nel 2015 sono stati tagliati 35 milioni, ad oggi dalle notizie che abbiamo questo taglio si aggira attorno ai 28 milioni, ci sono ancora delle discussioni ma l'entità del taglio è questo. In modo da arrivare tra l'anno 2015 e l'anno 2016 a un taglio complessivo di 63 milioni che sono strutturali rispetto a questo fondo. I tagli mettono a rischio i servizi, denuncia l'Inca CGL, perché i patronati non riusciranno a garantire il livello di prestazioni attuali. In più c'è il pericolo che molti servizi possano diventare a pagamento in base a una pericolosa equazione. Ciò che sarà tolto dal fondo ricadrà sulle tasche dei cittadini. Non sono soldi pubblici come dice il governo, sono soldi che vengono dai contributi dei lavoratori, dai 22 milioni di lavoratori italiani che versano i propri contributi all'Inps. una parte di questi contributi vanno a costituire alcuni fondi che sono relativi all'Welfare, quindi alle prestazioni di ritorno che sono prestazioni sociali e un pezzo di questi soldi vanno a gestire, a impinguare il fondo dei patronati. Il che significa che sostanzialmente i lavoratori si pagano da soli questi servizi e non c'è assolutamente nessun intervento del pubblico. Tra l'altro una delle questioni che riguarda questi tagli vorremmo capire i soldi che vengono tagliati dal fondo dei lavoratori dove vanno a finire. Questo è il punto. Solo l'Inca Toscana assiste ogni anno in un centinaio di punti sparsi in tutta la regione un milione di persone con 300.000 pratiche seguite. Questi tagli a cascata cosa significheranno per la Toscana e per l'Inca? Per l'Inca Toscana che è sostanzialmente pesa per l'11% circa sul livello nazionale dell'Inca la terza regione d'Italia ha una ricaduta che supera i 600.000 euro, oltre i 600.000 euro che corrisponde sostanzialmente al bilan, al quanto serve a un Inca come quella di Pisa per esempio per andare avanti tutto l'anno. Quindi sostanzialmente con uno slogan si potrebbe dire che sparisce la seconda Inca della Toscana con questi tagli. Intanto la mannaia del governo colpisce anche i centri di assistenza fiscale con una sforbiciata da 40 milioni di euro. Per dire no ai tagli per patronati e CAF va avanti la mobilitazione nazionale con presidi, volantinaggi, lettere aperte ai parlamentari e iniziative.